Un contributo di 2 milioni di euro complessivi a fondo per tutto, destinati agli operatori del commercio ambulante del Piemonte per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica. Ed è questo il contenuto del bando promosso dall'assessore al commercio, agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Paolo Buongioanni, pubblicato sulla pagina della Regione. Una misura, sottolinea l'assessore, che ho voluto, insieme al presidente Cirio, è fatto inserire nell'ultimo bilancio come capogruppo di Fratelli d'Italia e che, ora da assessore, rendo immediatamente operativa. Il commercio ambulante di prossimità, ancora sottolinea Buongioanni, riveste un'importanza che va al di là della pura dimensione economica e imprenditoriale perché rappresenta un fondamentale presidio sociale. Il contributo offerto dal bando, intitolato Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica, può coprire fino all'80% della spesa ammissibile con un massimo di 2.000 euro per ogni operatore.